Benvenuti su Reality Italiano. Finalmente, Edoardo esce allo scoperto e ammette che stato è lui ad aver troncato la relazione con Antonella. La rottura di questa coppia da sogno è stata una sorpresa per molti, ma finalmente, grazie a Dejanera. Scopriamo la verità dietro questo triste evento. Secondo le Instagram Stories di Dejanera, sembra che il colpevole sia un video in diretta condiviso da Antonella stessa. Ma cosa è successo in quel video? Quale segreto si nasconde dietro la rottura? Dejanera ha fatto una rivelazione scioccante. Antonella voleva trovare un momento di condivisione intima lontano dai riflettori con Edoardo e per questo aveva pensato di organizzare una splendida vacanza per loro due a Filicudi, lei e Edoardo. Antonella aveva tutto pianificato. Una vacanza romantica in Catamarano, loro due assieme ma la risposta di lui è stata categorica. No, non tornerò con te a causa di quel video in diretta dove piangi. Il video sembra essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando alla fine della loro relazione. Ecco perché Edoardo è stato così determinato e duro nei confronti di Antonella. E, stato solo un pretesto per lasciarla o dietro c'è ancora qualcosa che non voglio far sapere? Scrivetelo nei commenti.